Ore 14.30, Stadio San Vito Marulla di Cosenza, è il derby di Calabria, la strada regionale più sentita. Cosenza-Garanzaro è la sfida della svolta, quella che cercano i lupi silane dopo un mese tra pochi alti e tanti bassi. Quella che vogliono le aquile gelorosse in ripresa dopo una prima parte di campionato da dimenticare. Tante differenze ed una cosa in comune. Rosselli non ha perso un derby quest'anno, Zavettieri neppure, nel match d'andata al Ceravolo. Lui non c'era, quel 3-0 in posto del rosso-blu è ancora lì che brucia. E come se brucia il tecnico Umbro, si affiderà al 4-4-2 classico con Statella libero di agire. Rosselli gli ha affidato le chiavi della squadra, lui ha risposto con quattro gol. Nelle ultime tre partite fermare l'esterno di Melito Portosalvo è l'obiettivo numero uno di Nunzio. Zavettieri tra l'altro con Cittadino, che nello stadio Cosentino si presenterà con lo stesso Undici che ha bloccato il Fondi. Con Kunzi ai box, Bashrak parte dall'inizio, si arriva al Crati e Statella l'uomo copertina. Sui tre colli è l'attaccante serbo, il giocatore da tenere sott'occhio al San Vito Marulla, arbitra il signor Riccardo Panarese della sezione di Lecce su di lui e sul derby di Calabria. Anche l'occhio di Facebook, match che analizzeremo insieme a Doctor Sport a partire dalle ore 19, con collegamenti in diretta dai due quartier generali. Alessio Buonpasso per la CINUS24.